Il Ministero ha bocciato la sanità abruzzese. È durissimo il verbale del tavolo di monitoraggio di fine novembre scorso, trasmesso poi al Dipartimento regionale Sanità. Troppi regali alle cliniche private da parte dell'Aggiunta Marsilio e questo è il primo giudizio da parte del tavolo. Con il governo di centrodestra, infatti, le cliniche non sono più obbligate a fornire dati giornalieri sul numero di ricoveri e dimissioni dei pazienti e questo a danno della trasparenza. Inoltre, mentre la precedente legge, scritta da D'Alfonso e Polucci, consentiva ai privati un'oscillabilità mensile del fatturato del 10% o del 30% a condizione che non sforasse il tetto massimo annuale, con l'Aggiunta Marsilio la soglia si alza al 20% senza l'obbligo di giustificare le spese. Il tavolo di monitoraggio chiede quindi confermezza all'eliminazione dell'utilizzo flessibile dei posti letto e dell'oscillabilità mensile a vantaggio dei privati. La Regione deve programmare la propria produzione sulla base dei fabbisogni di salute con la programmazione dei ricoveri, si legge nel verbale, e non lasciare alla struttura privata accreditata la facoltà di operare in deroga. La preoccupazione ministeriale è quella che si stia costruendo, un humus simile a quello precedente, lo scandalo Sanitopoli, che portò alla condanna definitiva dell'ex governatore Ottaviano del Turco. Ma non finisce qui. Altro macinio sulla sanità abruzzese è la questione finanziaria. Il tavolo evidenzia un buco di 34 milioni nel secondo trimestre nella 2019 e 57 nel terzo trimestre. E questo nonostante il premio di 30 milioni da parte del Fondo Sanitario Nazionale attribuito alla precedente giunta per aver sanato gli adempimenti del 2017. Quota premiale che non sarà riconfermata, benché la verifica per il 2018 sia ancora in atto. Situazione ulteriormente aggravata dal taglio di 75 milioni del piano operativo sanitario. Non è chiaro quindi dove saranno reperiti i fondi per riparare al deficit. Se il disavanzo non sarà coperto arriveranno le more e la Regione dovrà pagare anche le sanzioni di legge. Nonostante il giudizio del tavolo di monitoraggio sia netto, la Regione foro e chiede a mercante. Per l'assessore alla sanità Nicoletta Verì dal monitoraggio si può trarre un confronto produttivo, mentre per l'assessore alle attività produttive Mauro Febbo dal verbale emerge che è responsabile del disastro il governo precedente. Oltre al disavanzo molto pesante si cita in modo espresso la genericità estrema, queste le parole dei tecnici della programmazione sanitaria, sia della rete ospedaliera sia del piano sanitario, oltre a non sapere più nulla del piano degli investimenti. Deludente ed è molto grave quello che sta appunto portando avanti nella sanità, che sta gettando nel caos.